dovete sapere che un atteggiamento vitale non è qualcosa che ci è dato nel corredo genetico ma dobbiamo conquistarcelo già secoli fa amleto si interrogava sulla questione dell'essere o del non essere l'essere che si pronuncia nelle parole di amleto significa l'essere dentro la vita e noi siamo gettati alla vita come dicono gli esistenzialisti la forza dell'anima è il demone della creazione quando amleto si chiede essere o non essere intende dire la vita va conquistata attimo per attimo e non basta essere giovani per essere vivi la pulsione di vita va carpita alla nostra dimensione inconscia in una famosa citazione si afferma che la cultura strappa ai sassi informi la forma che è dentro la forza non sta fuori di noi ma è dentro la nostra anima e va liberata dal groviglio paralizzante con le forze distruttive anzi come sosteneva il grande teologo Eckhart c'è una forza nell'anima la forza dimora dentro in quello che i mistici hanno chiamato l'uomo interiore dunque la vita è azione e si contrappone alla morte che è paralisi si capisce subito quando una persona parla se ha sposato la vita o la morte e noi dobbiamo distinguere due momenti fondamentali quelli in cui lottiamo sul fronte interno alla nostra anima e quello in cui lottiamo sul fronte esterno con la nostra realtà il salto che segna qualitativamente lo sviluppo interiore avviene attraverso un'acquisizione violenta perché per diventare coscienti bisogna opporsi al dato naturale che è un dato primario originario che equivale alla nostra fondamentale inconscietà vedete uno dei cardini fondamentali della teoria psicoanalitica è il concetto di rimozione si intende per rimozione quel meccanismo di difesa dell'io in virtù del quale determinati contenuti psichici vengono esclusi dal campo della coscienza ma rimangono attivi restano attivi nell'inconscio e fanno sentire il loro effetto per chi per così dire la loro realtà operativa la fanno sentire in molte circostanze e allora noi in quanto psicoterapeuti giungiamo alla conclusione che laddove c'è una sofferenza psicologica lì la dimensione creativa è stata rimossa è stata eccessivamente rimossa il compito della terapia diventa allora quello di riattivare la creatività del paziente per restituirgli la sua dimensione umana perché è solo nella creatività che noi siamo persone quotidianamente nel nostro lavoro ci troviamo di fronte a persone che quando si trovano in difficoltà non sanno più come comportarsi e rinunciano se si potesse esaminare situazione per situazione troveremmo senz'altro un istante cruciale un momento di paura nel quale anziché considerare le difficoltà come prove da superare appaiono invece come ostacoli insormontabili di fronte ai quali ci può solo ci si può solo fermare in questi momenti si compie una scelta regressiva cioè si torna indietro in una fase precedente allo sviluppo quando ci troviamo al cospetto di queste situazioni di sofferenza avvertiamo che la persona ha di fronte a sé delle barriere immaginarie vede cioè dei fantasmi che non esistono e non ha nessuna importanza che queste paure siano infondate o siano reali perché in questi casi tutto il lavoro consiste nel riuscire a depotenziare la paura perché quello che ci blocca è proprio la paura di fare un passo in avanti chi è colui che fa un passo in avanti è l'eroe l'eroe greco è fondamentalmente un trasgressore si pone al di là di ogni regola e questo vale soprattutto per la persona creativa per la persona creativa non esistono limiti o leggi e si tratta di una scelta di individualità e allora secondo me non conviene condurre una vita rettilinea una vita conforme alle regole nella quale non diamo fastidio a nessuno per così dire la vita rappresenta per noi l'unica possibilità che disponiamo di far valere la nostra presenza e la psicoterapia può essere intesa come un recupero della dimensione creativa in questo senso la nevrosi guarisce nella misura in cui si riesce a recuperare una qualità umana che permette all'individuo di inserirsi nel mondo ma non più passivamente ma attivamente per non essere eterodiretto ma essere autodiretto e allora è importante che lo psicoterapeuta riesca ad attivare nel paziente la sua componente psicologica diversificante se ci adeguiamo al collettivo la vita diventa una linea retta senza pericoli come quei sentieri di montagna contrassegnati da frecce seguendo le quali non si corre alcun rischio di perdersi ma nemmeno si possono godere i più sublimi panorami montani io sono convinto che alla base di ogni disturbo psicologico c'è sempre una scelta di mediocrità che non può soddisfare la persona le persone sofferenti non stanno nelle vesti che indossano hanno scelto qualcosa di mediocre che noi appartiene è una scelta diversa richiede però la possibilità di rischiare la nostra esistenza dunque per noi il problema consiste nel compiere una scelta vera una scelta autentica ogni destino individuale si snoda lungo un percorso diverso con degli ostacoli diversi e non ci è dato di conoscere prima il senso delle nostre esperienze spesso però si può osservare che gli ostacoli sono proprio quelli che ci meritiamo e vorrei ricordare che in tutti i miti sopraggiunge sempre un momento in cui si deve fronteggiare il diavolo il mostro qui il discorso diventa sottile ma quando si riesce a squarciare il velo noi vedremo soltanto noi stessi noi ci illudiamo di combattere contro degli ostacoli esterni ma questo è un atteggiamento paranoico perché si proietta il proprio nemico interno sull'altro in realtà quando alla fine si squarcia il velo della propria incoscienza non vediamo nemici concreti ma soltanto le nostre difficoltà psicologiche bene io mi fermo e vi informo che faccio consulenze psicologiche online sia con la videochiamata sia consulenze telefoniche per cui se volete richiedermi una consulenza dovete contattarmi su whatsapp al numero 338 16 92 473 scrivendo questo messaggio come funziona la consulenza e poi specificando il nome il cognome i vostri orari preferiti potete visitare il mio canale youtube dove troverete oltre 400 video sono presente su facebook dove ho fondato un gruppo dal titolo psicoterapeuti dell'anima e ho aperto una pagina che si chiama la mia psicologia a presto